I ciottoli della terra impareggiabile diventano dolci, grazie alla trasformazione operata dalla sapiente lavorazione del cioccolato di Modica. Così nascono i famosi cuticci di Modica, puro cioccolato modicano, trasformato in un intreccio di bontà nera. I cuticci di Modica sono una esclusività della pasticceria di Lorenzo, da 40 anni a Modica, in Corso Umberto. Grazie a tutti.